Amici di TGM, tra pochi giorni il nuovo numero di The Games Machine sarà in tutte le edicole. Come potete vedere la copertina è dedicata a Doom, quindi abbiamo il ritorno di un grande classico degli Sparatutto in soggettiva. Il nostro Claudio è un grandissimo fan e quindi adesso introdurrà l'argomento. Esatto, la copertina è bellissima, secondo me è una delle più belle che abbiamo fatto da un po' di tempo. Questo non è merito nostro, però dall'idea del tipo di gioco estremamente cattivo e iper-violento, cinetico, come tradizione vuole, noi abbiamo giocato il multiplayer che era in versione beta chiusa prima che andassimo in stampa e vi racconto nella nostra anteprima le mie prime impressioni che sono un po' controversi, diciamo che c'è spazio per un bel gioco, però ci sono alcune cose che mi hanno convinto, altre meno, comunque poi ne parlo dentro. In compenso abbiamo però tutta un'anteprima molto più ampia sul comparto single player che sarà molto diverso da quello del gioco online e quello invece ci ha convinto tanto e quindi non vediamo l'ora di metterci le mani sopra. Non manca tantissimo perché il gioco esce il 13 maggio su PC e anche console che però ci interessano molto meno. Tra le anteprime anche questo numero è ricchissimo perché vi proponiamo Valentino Rossi The Game. La storia e il gioco è dedicato appunto a Valentino Rossi ma ci sarà un occhio di riguardo anche per tutto il Moto Mondiale. Il nostro Davide Mancini si è recato a Doha, ha provato per noi il gioco in anteprima e ce ne parla. Esatto, lui è andato durante un weekend di Moto Mondiale quando hanno corso lì, Valentino tra l'altro è arrivato quarto quel giorno, si vede che parlare del gioco di se stesso e poi correre anche non gli ha fatto molto bene, però insomma diciamo che è il titolo più ambizioso di Milestone che è software house italiana che conosciamo tutti per appunto i suoi giochi di moto e ci ha fatto una bella impressione. Tra l'altro sempre riguardo di anteprime questo mese abbiamo anche comunque qualche articolo interessante ugualmente che parla di Tyranny, il nuovo gioco di ruolo di Obsidian Entertainment, poi abbiamo The Banner Saga 2, abbiamo una bella reportage dalla GDC di San Francisco che riguarda Timberweed Park, che è la nuova avventura grafica di Ron Gilbert, quello del primo Maniac Mansion, quindi insomma un ritorno nostalgico delle avventure grafiche. E sempre a proposito di Game Developers Conference di San Francisco abbiamo anche lì un reportage molto 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 lungo e molto 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 bello che parla appunto di cos'è stata la fiera quest'anno, un po' le tendenze, le cose, i fatti che sono successi raccontati dal nostro Gio Peppa Andrea Maderna. Tra le recensioni spicca The Division che è uno sparatutto online, potete giocare da soli ma la resa massima l'avrete giocando a gruppi di quattro. A questo proposito il nostro Mario Baccigalupi ha scritto una recensione anche molto corposa, perché sono ben 11 pagine, e poi sono intervenuti anche il nostro Ivan, Claudio e anche Davide Mancini, la nostra principessa. Esatto, siamo andati tutti e quattro a New York, nella New York infestata dal vaiolo di Ubisoft, e ci abbiamo giocato come dei disparati, ci stiamo giocando ancora anche adesso in realtà come dei disparati, e abbiamo appunto, l'avevamo promesso il mese scorso, abbiamo fatto appunto questa recensione molto 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 lunga, con all'interno interventi appunto nostri, sia mio, di Mario, di Ivan e di Davide, che vi raccontiamo i diversi punti di vista del gioco, insomma lo stiamo spolpando abbastanza, è un divertente, spara tutto online, e insomma è sicuramente il punto, il pezzo forte di questo mese. Un'altra recensione importantissima che spicca tra quelle che ci sono nel nostro numero, che è davvero ricchissimo, è Dark Souls 3. Esatto, Mario ci ha preso ovviamente i calci in faccia tantissimo per giocarci, ho memoria di una telefonata sua, disperato, in cui mi chiamava dicendo che non ne poteva più, però il gioco gli piaciuto un sacco. E in realtà di altre recensioni importanti, dicevi giustamente, ce ne sono altre, abbiamo Quantum Break, uscito anche per PC, che il nostro buon Fabio Stefano Accorsi de Luigi di Felice ha giocato, poi abbiamo Trackmania Turbo, abbiamo Adrift, un'avventura in prima persona specifica per i sensori di realtà virtuale, che quindi Mario ha avuto campo libero di giocare, abbiamo la remastered di Day of the Tentacle, altra avventura grafica che è tornata in gran spolvero, e insomma giustamente anche questo è un bel numerone. Amici di TGM, dopo avervi presentato questo nuovo numero e farvi venire anche un po' di curiosità, vi aspettiamo anche sul nostro sito che è www.thegamesmachine.it oppure in edicola. Ricordate anche di consultare i nostri social, abbiamo una pagina Facebook, Instagram e Twitter, e anche Twitch. Esatto.